Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di Siamo Tornati su Minecraftita Come al solito in compagnia di Biss Perché ve l'avevo detto 2500 mi piace Biss Il prossimo episodio lo faccio con Biss 2500 mi piace E siamo in compagnia di Biss E vai Quanto entusiasmo Allora, che stai facendo Biss? Beh, ci serve cibo Ci serve Esatto Necessariamente Necessariamente necessitiamo di cibo E quindi si è pensato alla farm A una delle migliori farm Tanto Vabbè Suspense Tanto l'avete letto nel titolo C'è scritto Mega farm di polli 1-1 Punto esclamativo Che cosa andremo mai a fare in questo video? Cerchiamo uova Perché non abbiamo polli Perché non abbiamo polli Esatto Allora Io ne ho uccisi diversi di polli Intanto vado a cercare qualche pollo Tu magari mi fai il layout No? No No scherzo Vieni con me Uguale Perfetto Mission impossible Facciamo quella La 3 La 3 La versione 3.0 Con Un incremento E aumento dell'incremento Di polli Ma io ho un'idea Visto che ormai non serve più Perché non c'è più il problema Delle max entity craning Perché abbiamo trovato un modo Per affixarlo Adesso ve lo spiegheremo Adesso lo spieghiamo Possiamo far tranquillamente In un altro modo Secondo me Però vediamo Vediamo come va Vediamo un po' Sì vediamo come va L'idea sarà trovare polli Che non sarà facilissimo Credo Ah ma C'è ancora il tuo primo insediamento C'è lì Però facciamo Va bene ragazzoli Ci vediamo appena abbiamo trovato No una ventina di uova Tutte ce ne vogliono Anche di più Eh dire anche Eh ma non è facile Trovarne così tanto Ragazzoli Bisolo si è trovato tipo 16 polli Dove stai Io non ti vedo Io so anche io La foresta di dark oak Sì anch'io Oh Dark oak Anche la prima Ho fatto la battutina Anch'io simpatica Da 14enne Simpatico Va bene Sto arrivando là Ci sono quasi Sto in mezzo all'acqua Piano piano arrivo T'ho intravisto Perché io ero un po' Più dietro Abbiamo trovato anche le mucche E io delle mucche Me le porterei volentieri A casa Con del grano Per il semplice fatto Che ci servi Ciao un pollo Ciao pollo Ci sono tanti polli E gli dobbiamo far fare le uova Quindi dobbiamo stare qui Di verso tempo Beh li portiamo tutti In un unico punto Così stiamo a fk Sì ok Hai un hopper dietro No Indietro no Ci servono dei semi Ho dei semi Non ho dei semi Vado a Provo a trovare dei semi Ho trovato anche le zucche Cioè Bissom ha creato Oh ci sono anche dei polli Infatti li vado a prendere Però Ah ecco ci sei tu qua Allora tu le hai viste le zucche già Sì Ci sono andato prima Ah no non le avevo viste Guardate Beato tra i polli Faccio uno screenshot Ehi come ti permetti Copyright Copyright Sì sì la voglio Ho dei polli qua Pollo 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 Lo spoglios Ah avete visto il video Di lo spoglios Dimentate se avete visto il video De lo spoglios Il romanos Bellissimo Un mister creeper Un mister creeper Vuole morire anche lì insieme i polli Un mister Eccolo qua Non ha fatto uccidere i polli Eh no lo stranzo si te li fa uccidere Va bene qualcuno te lo frego io di pollo Ok A me non seguo più guarda E ovviamente non ti seguo più perché Gli hai fatto vedere prima il pollo Poi Prima gli hai fatto No sono caduto dai che coglione Prima gli hai fatto vedere i semi Poi ha detto No non Non ve li do più E allora loro Hanno capito che li prendi in giro Perché non mi seguono Seguitemi i polli Neanche a me Ormai devi fare verso del pollo Prova a farlo No fallo te bis prova No no non ce la faccio io Mi dispiace Ok vai qualcuno C'è uno zombie Villager Zombie villager Di bis perché Mi fa tipo Posso far griffare il terreno ai creeper Non fa in tempo a finire la frase Che sento BAM Esplosione totale E quindi Si Ragazzoli se state vedendo questo video Probabilmente è pomeriggio Per il semplice fatto che No non è in pomeriggio È in mattina Perché si prova A fare il video Fare un video alle ore 12 invece che alle ore 2 Quindi probabilmente Questo l'avete visto alle 12 Se siete attivi Se no Se l'avete visto Se l'avete visto Se non l'avete visto Perché siete qua Infatti No no non è possibile Non collimano le varie informazioni Magari l'avete visto di pomeriggio Comunque ragazzoli Ci vediamo tra Circa 3 ore Quando abbiamo delle uova Hey Chihuahua Ok Bisolo Qui ricordaci Dobbiamo fare la porta Facciamo subito No 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 Adesso ci facciamo la cosa Ci facciamo la Io la faccio Tu fai la porta Ma io devo fare il Perché altrimenti Non hai fatto la parte Non hai scritto la parte 2 Hai scritto parte 1 Oh non serve andare indietro Dove scappi Io devo No mi serviva il giro per passare Perché qua dietro ci dobbiamo fare La farm di polli Quindi Venomale Ah ok La facciamo l'allora Esatto sì Quindi venomale E io le prendo sul serio Assolutamente Ma sono carine Ci si poteva fare il passaggio segreto Anche quella non era male Come cosa Per carità Però Boh Questa parte Questa porta Volevo farvi vedere Che funziona tutta la perfezione E è X Ora dovremo pensare A come chiuderla E guardate che non è facile Come cosa Non ingannatevi Bisognerà farci Qualcosa White terracotta Non mi serve La light gray terracotta Attualmente non ho Tomorrow Piccolo spoiler Glielo facciamo Bisolo Non lo so Dell'ospite Tomorrow Ah sì Dai Per te Lancia te lo si Allora sì Domani Probabilmente Diciamo un 70% Ci abbiamo un nuovo ospite Su sta serie Sarà il terzo Il secondo ospite Perché Il primo sei stato tu Ovviamente Il secondo Di questa serie Boh Allora io con 4 uova Ho tirato fuori 2 polli Bis Vai Adesso faccio il quad spawn Tutte e 4 volte Niente No No Niente Niente No ti prego Allora io ho un vantaggio Ok 3 Ho un po' più di uova 4 Ok pari Praticamente siamo andati 2-2 Sì ma io avevo 20 uova Te invece ne avevi 4 Va va bene uguale Va bene L'importante è il risultato Comunque abbiamo 4 polli Che quando cresceranno Saranno grandi E grossi Ci daranno un sacco di produzione Di Uova Per la farm Dovremmo aspettare Perché ovviamente Adesso questa è la parte In cui noi prendiamo le uova Poi faremo la farm In cui metteremo i polli Che darchereranno Polli che poi moriranno Insomma È un po' lunghetta Come storia Però piano piano Vedrete che alla lontana Avremo una grande farm Di cibo E così non dovremo più Faticare Per prendere cose Ok Allora adesso bisogna trovare Un'alternativa Per questo video Perché alla fine Non siamo riusciti A fare la farm di polli E non possiamo metterla Nel titolo Eh no Però io direi Aspetta No però Io la farm di polli La farei Cioè creare il layout E basta A parte mi serve lava Hai della lava Lava come lava Ho un secchiello Grazie Vado a prendere la lava Vado a prendere la lava Bisolo Sì ci rivediamo tra poco Ragazzi Io faccio pistoni Tu crafta Tutta la roba che ci serve Compresi Tanto abbiamo quarzo Compresi Comparatori e tutto il resto Io vado a prendere la lava Ci rivediamo appena Siamo pronti per fare La farm di polli Effettivamente La fatta Hai legno Bella Sì c'è legno In una chest Di quello bianco Acacia No no Acacia non è acacia Quello bianco è Birch Birch Esatto Allora ragazzi Allora Che cosa serve Abbiamo fatto Il design della farm di polli Adesso ve lo facciamo vedere Io però sono indeciso Per farla qua dietro Perché qua dietro Mi diceva carino Il passaggino segreto Quindi Ok allora Lasciamola un passaggino segreto Lasciamo un passaggino segreto La farm di polli La farm di polli La cosa possiamo fare Ah qui guarda C'è questa parte qua Questo cucinotto qui È totalmente inutilizzato Attualmente È possibilissimo sfruttarlo Tramite la farm di polli Esatto Questa cosa qui Enorme Qui in mezzo Scherzi È bellissimo Cioè vieni qua Qui ci facciamo la cucina E qua ci facciamo l'arrivo dei polli Assolutamente Ma c'è Certo Giustamente Adesso faccio lo scavo Cazzoli eccoci qua Allora ecco Già iniziata la costruzione Aspetta 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 Fermo 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 un attimo Perché mi serve Mi serve Una spiegazione Buona Allora ragazzoli Una Questa è la farm di polli Una delle più compatte Secondo bis La più compatta Devo ancora verificare Comunque Qui ci abbiamo la cesta Ho pensato bene Di metterlo qua dentro Come vi dicevo Perché sarà una sottospecie Di angolo cultura cucina Perché mi chiamano La sto tirando Forse un po' troppo per le lunghe Comunque qui bis Già mi ha costruito tutto Io parca miseria Siamo al telefono Però va bene uguale Allora Cosa Come funziona sta roba Questa è un po' Il più compatto al mondo Gli manca un comparatore Adesso gli craftiamo Crafta lui Ah perché c'è sta scala qua Qui ci andranno i polli Il bello della scala E che ti permette Dato che avevano messo Il blocco delle entità 26 unità in un blocco 26 entità scusate In un blocco Sarebbero poi morte male Perché c'era un limite Con la scala Si riesce a bypassare Questo limite Quindi a fare A mettere quanti polli Ben o male ci interessano Non so quanti ne metteremo Qui la produzione di uova Ancora va a rilento Non ho trovato un altro Di uovetto Che non è spawnato nessuno Qui ovviamente non ci sono uova Sarà lunga come cosa Per ora Però Stando a FK Ore e ore e ore Mi è sparito il quarzo No sta qui Eccolo qua Devo fare Adesso li craftiamo Il comparatore Poi abbiamo fatto Praticamente Tutto quello che dobbiamo fare È soltanto mettere polli Quindi abbiamo La struttura ce l'abbiamo Grazie della cosa Prova definitiva Anche un blocco solido Anche un blocco solido Esatto Perché questo se no Aspetta ritoglimi gli oggetti Bravissimo Ho un co-blocco io Ok Vai Prova Grazie Andiamo qua Buttiamo i cosi qua dentro Che non passano Perché non passate Sì Bisogna accumulare uova Non ci interessa il pollo Quindi per quello che ho messo il dropper Dopo lo sostituiremo con un dispenser Quando vorremmo la carne La carne che attualmente è importante Però è meglio avere prima incremento e roba varia Io ho finito il piccone Manca un 28% di durabilità All'1% lo lasciamo qua Bella l'immagine che hanno appena settato sul nostro TS Bene ragazzoli Penso che per questo video possa tranquillamente essere tutto Come al solito Ringraziamenti doverosissimi Abyss per essere di nuovo qua Come al solito 1500 mi piace Domani forse prossimo ospite Chi sarà? Scrivetelo nei commenti Vediamo se qualcuno ci prende Che altro dovevo dirvi Ringrazio come al solito Game Hosting Per averci fornito i server Detto questo noi ci vediamo come al solito A un prossimo video Ciao Bisolo Aspettate un secondo Trovelocissima Chi indovina Il primo che indovina Anzi riceverà la possibilità di entrare sul nostro TS Oh oh Boom ok Ringraziamo anche Alex Che ci ha settato tutto il TS adesso Si è messo qua da solo un'ora a settare il TS Quindi ringrazio Mettete doverosissimi anche a lui Basta Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti